Per quanto riguarda il maltempo, al di là della tregua di oggi e di domani, per via dei passaggi e delle varie perturbazioni, il fine settimana sarà sicuramente brutto. E ahimè dalle proiezioni che ci sono, anche la prossima settimana sarà molto perturbata, quindi non abbiamo grandi speranze di rivedere il sole a breve. Per quanto riguarda ciò che attiene noi della proiezione civile, quindi tutte quelle che possono essere problematiche inerenti, la neve sarà sempre al di sopra dei 1000 metri, addirittura anche 1200 e 1500 dove c'è lo zero termico. E non vi sono particolari preoccupazioni per quanto riguarda le precipitazioni, quindi avremo maltempo ma nulla che possa in ogni caso andare a creare problematiche rilevanti ai fini di protezione civile.